Buongiorno, una notizia di cronaca da merito di Porto Salvo. Arrestate a merito di Porto Salvo 10 persone coinvolte nell'operazione Adasipario. Sono tutte di merito di Porto Salvo, erano già state arrestate nell'operazione Adasipario, tornano ora in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di merito di Porto Salvo sotto le direttive del capitano Gianluca Piccione ed è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio di Calabria a seguito della sentenza di primo grado nel processo Adasipario celebrato con il rito abbreviato. Quindi a seguito delle condanne è stata ripristinata la misura cautelare in carcere per i seguenti soggetti. Flacchi Pietro, nato a merito di Porto Salvo, classe 56, Guerrera Giuseppe, Iamonte Francesco, alias Faccia di Drago, Iamonte Natale, Malaspina Consolato, Meduri Consolato, Minniti Angelo, Tripodi Giovanni, Tripodi Giovanni, Verducci Pietro. Sono tutti tornati appunto in manette.